Caos e disordine. Io scommetto che il vostro intento era di distrarli, così da poterli derubare meglio. Ehi! Non trovo il mio ralaggio! Oh no! La mia preziosa collana! Il mio telefono! Come si permette di incontrare un buon nome del sindacato della giustizia? Oh no! Accidempoli! Dov'è il mio capo quando serve?